A Chieti è scontro tra i genitori degli studenti degli istituti comprensivi e il comune per il mancato avvio degli scuolabus, servizio sospeso da qualche anno. Ancora una volta infatti si inizia l'anno scolastico senza scuolabus e le famiglie sono costrette a organizzarsi, lamentano in base a turni di lavoro, chiedendo a parenti o amici di andare a prendere figli a scuola per non parlare del traffico in tilta. E non c'è solo il problema degli scuolabus, ci si mettono infatti anche le mense. L'assessore comunale a ramo Teresa Giammarino non vuole creare false illusioni. Sì, la scuolabus purtroppo è un servizio che da quando noi siamo in questa nuova amministrazione non è mai partito, ma dico di più che in realtà era stato già soppresso nel 2018, il personale era stato rinternato dentro gli uffici, per cui uno dei primi problemi che abbiamo affrontato proprio all'ingresso della nuova, della nostra, di quando siamo entrati a gestire la cosa pubblica, è stato proprio il preoccuparci per il trasporto scolastico delle scuole di primo grado e per quando riguarda la mensa. Ma quando partirà e se partirà il servizio scuola, Pussa? Allora, la priorità al momento purtroppo è proprio per la mensa che abbiamo sempre fatto e espletato e per cui anche quest'anno ci preme tantissimo portarlo avanti ed erogare i pasti come ogni anno abbiamo fatto dal nostro ingresso. Per quanto riguarda invece il servizio scuolabus, contiamo assolutamente di poterlo ripristinare anche perché all'ingresso, come dicevo prima, il servizio l'abbiamo trovato chiuso e i quattro mezzi di trasporto oramai erano solo da rottamare perché non c'era possibilità di poterli risistemare per farli funzionare. Quindi adesso si tratterebbe o di fare un noleggio, però il noleggio ha un costo, per cui con il fatto del dissesto che abbiamo dovuto dichiarare, al momento non siamo riusciti ad affrontare questa spesa, però contiamo entro l'anno prossimo anche con un sistema diverso o con un affido in concessione come d'altronde stiamo facendo con gli asili nido e sta funzionando.